Dottor Gianni Nanni, bolognese? Bolognese, certo. 1900? 54. Pensavo 55. No, 54. Isokinetic, ovvero la miglior struttura di recupero per sportivi. Solo calciatori? No, tutti gli sport e anche tutte le persone che hanno problemi. Chi ha riabilitato? Rifalto pundici degli riabilitati? Di questi in panchina? No, nella storia. Pensi che invece di andare a intervistare i signori io vengo da lei? Il signore è stato uno di quelli. Roberto Vazzo e tanti altri. Anche Roberto proprio. Qual è il segreto? Applicazione, pensare sempre di non essere mai tra i primi ma di risparare sempre. Chi è il miglior specialista del mondo nella fattispecie della riabilitazione? Ce ne sono diversi, ci sono scuole diverse. Scuola americana, scuola australiana, scuola anche dell'Europa dell'Est. Ognuno ha delle caratteristiche, delle cose importanti da portare. Quindi bisogna saper prendere un po' da tutti.